Un accordo last minute. Questo il risultato del tavolo di Palazzo Garampi in cui l'amministrazione comunale di Rimini e le categorie economiche della città hanno finalmente trovato la quadra sulle iniziative legate al Capodanno 2011. 460.000 euro la cifra totale necessaria, di cui 200.000 saranno messe a disposizione dal Comune, mentre i restanti dalle associazioni degli imprenditori. Dopo l'addio dell'ormai tradizionale Capodanno Rai, per cui la spesa si aggirava attorno al milione di euro, in questo 2011 di crisi l'impegno per le casse comunali si vede ridotto di ben 800.000 euro. E intanto iniziano i preparativi per le tante iniziative per l'ultimo dell'anno con l'evento centrale di Piazzale Fellini per cui si vocifera la presenza di big come Battiato, Elisa e Giorgia. Ma dall'incontro con le categorie il sindaco Gnassi ha approfittato per illustrare tutte le attività culturali che dureranno tutto il mese di dicembre. Saranno infatti presenti in città Ivano Fossati, Laura Pausini e il noto rapper Fabri Fibra in una nota discoteca della città. Innovativo inoltre sarà il braccialetto della Movida che permetterà l'ingresso la sera del 31 a tutti i locali di Marina Centro. L'unica cosa che mancherà per questo Capodanno 2011 sarà soltanto la diretta televisiva.